Da circa un anno sto lavorando come Export Manager presso un'azienda in provincia di Padova. Dopo aver conseguito una laurea in relazioni internazionali all'Università di Padova, sono stato assunto da questa azienda e la mia decisione di frequentare il Master in Export Management della Malaboris Business School è stata dettata dall'esigenza di acquisire tutta una serie di nozioni e competenze, improvvisare in un settore come quello dell'Export può rivelarsi anche estremamente rischioso. Questo Master per me è stato veramente fondamentale per poter colmare le mie lacune e ho apprezzato molto il taglio pratico delle lezioni, oltre al fatto di potermi confrontare con dei veri e propri professionisti di questo settore che poi hanno portato in aula esempi e casi concreti che mi sono veramente tornati utili e grazie ai quali sto vedendo i primi risultati del mio attuale lavoro. Un Master che io mi sento assolutamente di consigliare a tutti coloro che abbiano intenzione di intraprendere questa strada.